ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati colgo subito l'occasione per ringraziare auki che ci ha fornito veramente tantissimi prodotti prodotti principalmente per l'estate visto che ormai ci siamo siamo pronti per partire per le vacanze prodotti veramente belli ben realizzati ben costruiti e dall'utilità incredibile il primo prodotto che forse è il più piccolo di cui vi vorrei parlare che c'entra poco con l'estate ma è un prodotto che diventa sempre più utile è un connettore type c micro usb quindi chi come me ormai ha dispositivi con la type c come per esempio il mio il mio xiaomi mi 5 pro cosa posso fare per utilizzare tutti i cavi micro usb che ho in giro in macchina ovunque attaccare in macchina a uno dei cavi micro usb che ho questo in modo tale che avendo l'ingresso type c e l'uscita scusate l'ingresso micro usb e l'uscita type c potrò ricaricare il mio mi 5 senza dover andare ad acquistare altri miliardi di cavi type c anche se in realtà sono già sulla buona strada per acquistarli quindi sicuramente un prodotto molto interessante costa veramente poco ed è un prodotto dall'utilità veramente alta soprattutto per chi magari fa modding su dispositivi che hanno la type c e a volte è necessario andare a inserire una chiavetta nel dispositivo quindi utilizziamo un cavo mhl il cavo mhl che abbiamo in casa sono tutti micro usb quindi con questo potremmo andare ad utilizzarlo tranquillamente mettiamola da parte e passiamo a cavi cavi che hanno tre tipi di cavi il primo è questo qua lightning per iphone o per ipad o per ipod un cavetto veramente bellissimo abbiamo questa colorazione rossa e un cavo in nylon kevlar non so bene di cosa sia ma dalla resistenza molto alta e devo dire che anche anti ingarbugliamento mi piace molto lo sto utilizzando per ricaricare il mio ipad però funziona molto bene ed è un cavetto per chi sta cercando un cavo lightning che funziona sia per la ricarica che per i dati ed è visibilmente materiali veramente ottimi quindi lo consiglio a chi sta cercando un cavo lightning abbiamo poi altri cavi in questo caso cavi in nylon però micro usb da una particolarità abbiamo le punte in oro molti mi hanno chiesto dei miei amici che le hanno visti ma a che cacchio servono le punte in oro beh allora loro è un buon conduttore quindi teoricamente dovrebbe garantire un passaggio di corrente migliore rispetto che un cavetto normale in pratica sinceramente per quanto posso dire non cambia nulla però fa figo avere un cavetto con le punte in oro quindi perché non acquistarli su aukili troviamo a prezzi bassi è come acquistare un cavetto normale quindi assolutamente consigliato e funziona sia per i dati che per la ricarica sicuramente due cavetti veramente molto interessanti passiamo all'altro simil cavo hub che sto utilizzando tantissimo insieme al mio macbook 12 pollici con ingresso lightning scusate type c quindi abbiamo un ingresso type c e questo ci permette di avere oltre che un ingresso type c per la ricarica quindi nonostante andremo ad occupare la type c del mio mac potrò comunque caricare il dispositivo andando ad inserire il cavo di carica qua dentro un ingresso hdmi o meglio uscita per permettere al mio mac 12 di attaccarsi al monitor quando sono sulla scrivania e ben quattro usb quindi non avevo più il problema che avevo prima con la doc originale di apple che aveva solo una usb quindi a cui dovevo poi attaccare un'altra doc per avere più ingressi usb ma così facendo non ho più nessun tipo di problema perché ho ben quattro ingressi usb e viene gestita veramente molto bene l'unica nota negativa che ho notato è che spegnendo il monitor e riaccendendolo mi dà una schermata blu e l'unico modo per andare a rimuovere questa schermata blu è staccando l'hdmi e riattaccandola oppure staccando la type c e riattaccandola questa è l'unica nota negativa ma per il resto funziona veramente molto bene e la scatoletta al contrario invece di quella apple non scalda per nulla mentre quella della apple originale diventa rovente dopo un po' poi abbiamo due prodotti bluetooth due prodotti bluetooth per la spiaggia per andare a correre per utilizzare nel nostro tempo libero ma anche in casa oppure in ufficio le cuffie sono cuffie bluetooth che vanno ad inserirsi questo dietro la nuca e questi praticamente ad avvolgere i nostri orecchi questi due padiglioni abbiamo l'ingresso micro usb qua in alto per la ricarica l'accensione e lo spegnimento sono esattamente sul pulsante centrale vediamo se si accende ecco qua in questo momento si accende e dovrebbe ricercare in teoria il bluetooth quindi prendiamo il nostro dispositivo andiamo dentro alle impostazioni bluetooth no questo era lo speaker ho sbagliato riproviamo teniamo premuto niente da fare riproviamo di nuovo le ho provate su un altro dispositivo devo dire che la qualità sonora sicuramente non è delle più elevate la potenza in uscita però è molto molto buona e la qualità come dicevo non è sicuramente paragonabile a cuffie magari di un prezzo superiore ma diciamo che per prezzo che costano valgono tutto e anche se rovinate diciamo non ci piangerà il cuore non so perché non riesco a connetterle però vi assicuro che sono cuffiette non tanto comode perché questo almeno per quanto mi riguarda non posso tenerlo sopra la testa ma dietro attaccato al collo le cuffie poi una volta posizionate nella maniera giusta rimangono ben salde la comodità però è proprio il trasporto perché andando a piegarle adesso vediamo se mi ricordo come senza spaccarle ovviamente nella diretta ah no piegandole che stupido andando a piegarle in questo modo vedete andiamo ad adagiare le nostre cuffie in una posizione in un ingombro di spazio veramente ridotte questa è la loro comodità perché per esempio se andiamo in vacanza al mare e possiamo portare solo un bagaglio piccolino ci stanno dentro tranquillamente senza occupare metà valigia o senza fare un viaggio con le cuffie al collo perché sono gigantesche e poi abbiamo la cassa la cassa che qualitativamente non è sicuramente la miglior cassa che si possa trovare la scomodità di questa cassa è il fatto che per accedere a tutti i pulsanti cioè il pulsante di accensione spegnimento e di ricarica dobbiamo passare per il fondo schiena una volta rimosso io non ho unghie faccio molta fatica come avete visto a rimuovere questo tappino abbiamo l'ingresso jack la micro usb per la ricarica e qui abbiamo il pulsante per accenderle e spegnerle ci ho appena detto bluetooth bluetooth connected non so con che dispositivo ma penso esattamente con lo show me quindi apriamo spotify e vi faccio vedere la potenza di queste casse che devo dire per la loro dimensione sono sicuramente molto molto potenti ok la cassa al massimo prendiamo tell me alziamo al massimo abbiamo poi i tre pulsanti più meno e play più e meno ci permettono di cambiare musica play check ci permette di stoppare o far partire la musica e devo dire che è un prodottino molto interessante perché di dimensioni molto ridotte quindi potrete portarlo tranquillamente ovunque vorrete e devo dire dalla qualità costruttiva veramente elevata mi è piaciuta molto come cassa non posso che consigliarla trovate poi i link nella recensione scritta per l'acquisto e poi passiamo ai due prodotti per l'estate per eccellenza che sono delle cover impermeabili subacquee waterproof bag per dispositivi sono due differenti cover la costruzione è praticamente la stessa quindi noi abbiamo questi piripacchioli qua laterali che bisogna avere un po' di unghie per rimuovere io faccio molta fatica però alla fine ce la faccio poi si va ad aprire questo sportellino qua sopra si va a rimuovere quello che c'è all'interno si va a mettere al suo interno il nostro smartphone o il nostro action cam o il nostro documento perché io lo utilizzo anche per esempio quando vado in spiaggia per mettere dentro i documenti nel caso in cui abbandono lo zaino sulla spiaggia in modo da essere sicuro che se mi rubano lo zaino mi rubano giusto l'asciugamano e le carte ma non le cose valide una volta fatto in questo modo si andrà a sigillare in maniera precisa e perfetta avremo il nostro smartphone con cui potremo utilizzare anche la fotocamera perché funzionerà tranquillamente adesso vi faccio vedere potremo quindi andare ad utilizzare la fotocamera scattare magari anche qualche foto in acqua se il vostro dispositivo come il mio schiacciando il pulsante laterale va a scattare foto perché ovviamente sott'acqua difficilmente funzionerà il pulsante effettivo sullo schermo per lo scatto e quindi questa è una ed è molto bella perché ci permette di utilizzare lo schermo di vedere tutto quello che succede e di andare a scattare anche qualche foto in subacquea o comunque riprotetti da schizzi da sabbia da polveri e quant'altro cosa che in spiaggia ben sappiamo che sono all'ordine del giorno e poi invece abbiamo l'altra che è un po' più sportiva per chi magari va a correre sulla spiaggia dove abbiamo questa fascia che si va ad inserire all'interno che potremo agganciare al nostro braccio o dove vogliamo e poi anche qua come potete vedere c'è sempre la stessa tecnica di apertura una volta aperta poi andremo ad inserire il nostro dispositivo anche qua inserendo il dispositivo nel modo corretto quindi a testa in giù in questo caso potremo andare ad utilizzare sia lo schermo che come potete vedere rimane comunque ben visibile sia la fotocamera che in questo caso qua rimane comunque utilizzabile vi faccio vedere che anche in questo caso qua non mi illumina il display mi ha distrutto il telefono ok vediamo se andando ad inserirlo ok adesso ci siamo vedete funziona anche qua la fotocamera però è un po' più protetto ed è un po' più misteriosa perché questa qua è tutta trasparente e questa è leggermente più scura diciamo che entrambe svolgono la stessa funzione ossia la funzione di proteggere dall'acqua i nostri prodotti tecnologici ma anche in realtà documenti qualsiasi altro tipo di prodotto io però non me la sento di consigliare alla gente di acquistarli e lanciarsi in mare col dispositivo all'interno perché sono prodotti alla fine che si basano su plastiche che mantengono l'impermeabilità quindi basterà che per sbaglio picchiate dentro qualcosa si forma un piccolo graffetto sulla plastica che vi immergete, si riempie d'acqua e butterete via il vostro dispositivo quindi può essere utile per chi magari per sbaglio finisce in acqua o fa un tuffo ed esce perché viene comunque protetto o per chi magari si mette a fare foto sul bagnasciuga o è in spiaggia con amici a giocare a carte e non vuole rischiare di rovinare il dispositivo io sconsiglio sempre di entrare in acqua effettivamente col dispositivo se proprio volete fare una cosa di questo genere acquistate una fotocamera action cam impermeabile con il suo scafo oppure andate in un dispositivo impermeabile come può essere l'S7 o l'S7 Edge che almeno siete sicuri che la garanzia copra nulla, io ringrazio ancora Aukey che mi ha permesso di fare la recensione di questi milioni di dispositivi dimenticavo che per le due custodie impermeabili ci sono anche laccetti da tenere al collo perché ovviamente è proprio questa la comodità io ringrazio Aukey che mi ha permesso di fare la recensione di tutti questi prodotti veramente interessanti belli e utili e vi rimando alla recensione scritta per trovare tutti i link di acquisto e capire con qualche foto magari più da vicino il prodotto come è realizzato e di qual cosa si tratta quindi fatemi sapere se avete acquistato questi prodotti se li andrete ad acquistare se ne avete altri da consigliarmi sempre di Aukey che non ho ancora testato che così lo acquisterò e andrò a recensirlo se effettivamente è così interessante io vi saluto per questo video ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hightech